Buongiorno a tutti e buongiorno soprattutto e complimenti ai ragazzi che hanno vinto il concorso creativo Acqua, una risorsa da proteggere, che fa parte dell'azione di sensibilizzazione del PON-IR, il Sud in Rete con l'Europa, racconta con i tuoi occhi. Partecipare a questo concorso e soprattutto vincerlo parlando di acqua e dell'importanza della sostenibilità delle risorse idriche credo che sia fondamentale non soltanto per la regione Sicilia ma in più generale per il nostro paese. L'acqua è un bene che noi diamo per scontato ma che sta diventando oggettivamente a livello mondiale una risorsa complicata da salvaguardare. Per questo motivo è estremamente importante sensibilizzare le persone, i ragazzi ma anche gli adulti sulla protezione dell'acqua come risorsa fondamentale. Iniziative come il concorso indetto al PON-IR si collochano proprio all'interno di un ampio disegno di sensibilizzazione portata avanti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha il compito di aumentare la consapevolezza di tutti sul ruolo rivestito dalle istituzioni europee nel sostegno allo sviluppo dei territori interessati con l'obiettivo di intraprendere insieme un percorso di conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del territorio. L'Unione Europea lavora da più di vent'anni a questo fine, sono state diverse le direttive emanate per arrivare alla protezione del nostro sistema idrico a livello europeo e molte di queste iniziative sono state prese anche nel corso di questa Commissione e molte avranno ancora un impatto sulla conservazione delle risorse idriche. Basti pensare alla direttiva sulla conservazione e al ripristino delle zone naturali che appunto tra i suoi scopi è quello di meglio proteggere e conservare queste risorse. L'Unione Europea grazie a questa legislazione è un leader a livello mondiale. Abbiamo preso diversi impegni alle Nazioni Unite nel corso dell'ultima Assemblea Generale che si è svolta nel mese di settembre a New York e siamo determinati a dare più che mai seguito a questi impegni. Per farlo però c'è bisogno assolutamente di un sostegno da parte di tutti i cittadini e anche delle generazioni come la vostra, le più giovani, che in un futuro dovrebbero fare i conti o potrebbero fare i conti con i rischi della scarsità di questa risorsa se oggi non prendiamo i provvedimenti che sono necessari. Un grazie dunque a tutti voi per la vostra partecipazione e sensibilità. Un grazie all'utilizzo che la Regione Sicilia fa dei fondi PONIER per il mantenimento delle risorse idriche, così come accade nelle quattro regioni del Morazzogiorno interessate al programma. E' un ringraziamento in particolare ancora una volta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'autorità di gestione del PONIER che danno modo a istituzioni e cittadini di prendere parte insieme a iniziative come questa di fondamentale importanza in termini di condivisione e consapevolezza. Questo non è un investimento nel presente ma è oggettivamente un investimento nel futuro. Buona giornata.